Eccoli qua, allora i sei ragazzi che avanti ieri sera hanno sventato uno scippo in Via Unita d'Italia. Ci raccontate com'è andata questa faccenda? Eh niente, stavamo lì di passaggio, stavamo rendendo scherzando, quando ad un tratto una signora ha gridato aiuto e abbiamo visto questo scippatore che andava, cioè correva verso di noi. E quindi non ci abbiamo pensato due volte, abbiamo reagito contro le scippature per recuperare la borsa dell'anziano. Che avete fatto? L'avete rincorso? L'abbiamo rincorso, io specialmente l'ho bloccato, mi ha strattonato, quindi ho perso dalle mani il ladro, però siamo riusciti a rincorrere e a distanza di 10 metri si è girato le spalle, ha lanciato la borsa e se ne è scappato. E abbiamo recuperato la borsa. Ma che cosa è scattato? Non avete un po' di paura, non so, anche lui potesse reagire? Non ho paura di niente, di la verità. Però c'è... Sicuramente è stato tutto coraggio. È stato tutto coraggio. Mi dispiace a me per vedere la nonna. Ma ci abbiamo pensato proprio due volte. La vecchietta. Che cosa vi ha detto dopo la signora? Niente, ci ha ringraziato come se eravamo dei suoi figli, ci ha abbracciato, e ci ha chiesto se potevamo, ci ha invitato, se potevamo andare al planetario del figlio, perché il figlio è un astronomo, e quindi ci ha invitato alla fiera. Noi abbiamo ricevuto tanti commenti positivi, però anche qualcuno lì vicino, insomma, gli abitanti della zona, che ha detto, eh, quel gruppo però è un po' vivace, sotto i porci. Adesso mi raccomando ragazzi, non ci fate sentire brutte cose. No, no, no. Siamo sempre ragazzi per bene comunque. Sindaco, ha subito accettato il nostro invito. Questi sei ragazzi che hanno sventato lo scippo in Veneto d'Italia dovevano essere ringraziati pubblicamente. Sono stati ringraziati pubblicamente dal sindaco che è orgoglioso di loro perché sono dei ragazzi che comunque hanno avuto il coraggio di rincorrere uno scippatore, hanno, diciamo, dato un sorriso a una signora che aveva perso la borsa, che era stata rubata da quest'altro ragazzo decisamente più grande, quindi hanno dimostrato coraggio e mi fa piacere averli incontrati, aver scoperto che vengono anche da quartieri particolari, in un quartiere difficile in particolare, che viene sempre preso ad esempio come esempio negativo. Invece sono dei bravi ragazzi, dei ragazzi per bene, come ho avuto modo di dirgli. Gli ho regalato il braccialetto della città di Bari, che si chiama Bari per bene, perché hanno dimostrato di essere dei bravi ragazzi. Mi ha fatto piacere stare un po' con loro, ho scoperto che molti hanno lasciato la scuola da un po' di tempo, ho provato anche a stimolarli nella speranza che potessero decidere di tornare a scuola. In realtà cercano un lavoro, spero che con il tempo questa crisi economica possa passare e possa dare delle opportunità anche a questi ragazzi per il futuro. È un segnale anche per la città, quello di non girare la testa dall'altra parte, ma anzi rimboccarsi le maniche per fare in modo che le cose possano andare in maniera migliore? È un segnale importante, io in questi mesi non ho fatto altro che dire la stessa cosa, quando succede qualcosa tutti mi chiedono ma c'erano le telecamere, funzionano le telecamere, ho provato a dire o c'erano le forze dell'ordine, le forze dell'ordine ci sono, le telecamere ci sono, però è importante che reagisca la città, reagiscano le persone per bene di questa città e questa volta è successo e l'hanno fatto dei ragazzi, un esempio positivo per tutti, anche per quelli più grandi.